Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Anderraffi E come vi ho detto nel video scorso Aprivo una playlist del coso horror Oggi vorrei richiamare il numero 1 6 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 Si quel numero Noi ora andiamo a chiamare quel numero D'altra volta ci ho detto che non è raggiungibile Non è abilitato a fare questa chiamata Non è abilitato Allora andiamo a chiamare il numero Ecco ragazzi Ok andiamo a chiamare 1 Dovrebbe essere... Si è giusto Ok andiamo a chiamare Informazione gratuita La chiamata da lei eseguita Non è abilitata 3 Raga ci dice sempre quello Cioè è impossibile Ok ragazzi non siamo abilitati a chiamare questo numero Quindi c'è ragazzi In ogni video ci dovete dire Sempre così vuol dire che non esiste come tutti i fake video Tipo già Marco Zagato lo richiamano Potrebbe essere fake Eh boh Secondo me si Tipo i Sparkard che lo richiamano Oh raga 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 mi ha richiamato Rispondi a... No no raga Giuro Non è uno scherzo Pronto 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 Cioè mi sta pigliando un'azza raga Cioè quindi per no male esiste Vabbè avevo detto abbassare le vette Alzare le vette Ma potrebbe essere un fake ragazzi Potrebbe essere un fake Mi sto sentendo male Non perché Non lo so No raga Chiudo il video e... Bella